oggi dedichiamo la puntata all'eco bonus cioè la possibilità di usufruire di incentivi per l'acquisto di auto elettriche a tra poco bentornati all'ampi di tesla in video ma questa puntata è troppo importante perché sembra davvero che ci siamo con il tanto atteso eco bonus 2024 insomma sembra questione veramente di giorni e allora ho messo insieme un po di dati per schematizzare intanto in cosa consistono gli incentivi e poi che cosa dovete tenere pronti nel momento in cui effettuate l'ordine allora cominciamo subito con qualche slide giusto per semplificare tutta la procedura allora intanto parlando di incentivi in che cosa consistono intanto vediamo subito che il limite di prezzo è 42 mila 700 euro prezzo di listino cioè andando sul sito tesla è quello che vedete in alto sulla destra quando andate a scorrere i modelli quindi sia per model 3 che per model y infatti in questa slide ovviamente model s e model x cioè la prima in alto e la prima in basso non rientrano negli incentivi vi ho fatto un esempio lo vedete lì in basso model 3 trazione posteriore 40.000 490 quindi rientra nell'incentivo anche con margine 2200 euro di margine invece sulla destra model y trazione posteriore 42.690 quindi rientra negli incentivi per 10 euro attenzione lo vedremo più avanti che a questo prezzo che è di listino va aggiunta l'immatricolazione l'immatricolazione non fa cumulo per rientrare negli incentivi cosa vuol dire che se voi acquistate una model 3 a trazione posteriore avete 2200 euro di margine per aggiungere degli accessori che possono essere i cerchi l'interno bianco oppure un colore diverso a vostra scelta non lo potete fare per model y perché ovviamente sforereste subito il limite dei 42 mila 700 euro nella tabella poco sopra potete vedere come sono strutturati o almeno come dovrebbero essere strutturati gli incentivi e potete vedere chiaramente in due colonde una grande distinzione cioè se avete un ise superiore oppure inferiore ai 30 mila euro si intende ise a livello familiare e quindi poi potete vedere chiaramente le varie cifre in base al fatto di avere un'auto da rottamare un'auto da rottamare che sia euro 0 1 2 oppure euro 3 oppure euro 4 attenzione all'euro 5 perché potete accedere a degli incentivi rottamando un euro 5 solo se avete un ise inferiore ai 30 mila euro ora andiamo avanti e facciamo due esempi molto chiari di quanto vi costerebbe prima model 3 e poi model y accedendo ai vari incentivi partiamo da model 3 allora partiamo dal prezzo di listino attenzione che in questo caso listino intendo prezzo completo cioè torta finita macchina portata a casa 41 mila 475 perché spiegato sotto listino 40 40 mila 490 più l'immatricolazione 980 più il contributo pneumatici 5 euro quindi torta finita una model 3 senza incentivi costa 41 475 ora nella tabella sopra potete andare a avere esattamente il prezzo che andrete a pagare in base all'incentivo che vi spetta come potete vedere se non avete rottamazione se avete un ise superiore ai 30 mila euro allora vi costerà 35 mila 475 euro nel caso migliore cioè ise sotto i 30 mila euro e rottamazione di auto euro 0 1 2 vi costerà 27 mila 725 euro facciamo lo stesso discorso per model y listino completo quindi macchina torta finita costa 43 mila 675 euro anche in questo caso listino più matricolazione più contributo pneumatici come potete vedere senza nessuna rottamazione e con ise superiore ai 30 mila euro la portate a casa con 37 mila 675 euro mentre nel caso migliore la potete portare a casa con 29 mila 925 euro ma ora capiamo un attimino come funziona l'ordine per gli incentivi allora l'ordine con o senza incentivi a prescindere da tutto si può fare tranquillamente da casa non è necessario chiamare in store andare in store mandare mail si può fare tranquillamente da casa perché nel momento in cui voi fate l'ordine tesla vi invierà una mail con tutte le istruzioni e voi invierete i documenti richiesti documenti che vedremo a brevissimo in questo video quindi preparatevi con carta e pen scrivetevi quello che serve da mandare a tesla quindi si può fare tranquillamente da casa perché ve lo dico perché immaginate quante persone sono in attesa di fare l'ordine se tutti chiamano cosa fanno vanno a togliere tempo agli advisor che devono materialmente inserire tutti gli ordini nel portale quindi meno si diciamo così chiama si toglie tempo agli advisor e meglio è perché così fisicamente riescono inserire più ordini questo è un consiglio si può ordinare comodamente da casa e da qualsiasi dispositivo quindi da computer anche da telefono perché tramite l'app tesla se voi andate in alto a destra toccate l'account potete ordinare l'auto anche dal telefono non cambia assolutamente niente come dicevo tesla vi invierà una mail alla quale dovrete rispondere con tutti i documenti che vi vengono richiesti allora vediamo le tre tipologie di documenti che possono essere richiesti allora qui ho semplificato dicendo semplici cosa vuol dire incentivi semplici senza rottamazione questi documenti ovviamente valgono per tutti i casi allora che cosa serve il modulo prenotazione incentivi modulo prenotazione con bonus 2024 che tesla vi manderà in questa mail appunto di risposta voi dovrete compilarlo e rimandarlo la dichiarazione di mantenimento di proprietà di 12 mesi anche in questo caso tesla ve la legherà alla mail che vi manderà quindi voi compilate e rimandate perché ricordate che dovete tenere la macchina per almeno 12 mesi se la vendete prima dovrete riversare gli incentivi di cui avete goduto quindi attenzione la carta di identità ovviamente fronte retro e tesla sanitaria o codice fiscale anche in questo caso fronte retro vediamo nel caso in cui ci fosse una rottamazione qualsiasi rottamazione qualsiasi euro non importa quindi ai documenti che abbiamo visto prima dovrete aggiungere il libretto di circolazione dell'auto che dovete rottamare l'auto deve essere di proprietà di almeno 12 mesi almeno 12 mesi il certificato di proprietà in questo caso la dichiarazione di stato di famiglia solo se l'auto è intestata non a voi ma a un familiare convivente il certificato questo verrà dopo il certificato di rottamazione quindi è carico vostro andare da un rottamatore a far rottamare la vostra auto non la dovete dare a tesla voi a tesla dovete dare solo il certificato di rottamazione attenzione che non vale la rottamazione per esportazione la macchina deve essere rottamata effettivamente terminata in italia e poi il rottamatore dovrà darvi a sua volta la denuncia di cessazione di circolazione che va consegnata a tesla entro 30 giorni tutto quello che vi sto dicendo è spiegato benissimo nella mail che vi invierà tesla e ora passiamo all'ultima slide che riguarda il caso in cui abbiate un ise inferiore ai 30 mila euro a tutti i documenti che abbiamo già visto prima quindi quelli per ottenere l'incentivo quelli in caso di rottamazione dovete aggiungere ancora questi cioè la dichiarazione ise del vostro nucleo familiare quindi che vada ad attestare effettivamente l'ise inferiore ai 30 mila euro la dichiarazione di stato di famiglia ovviamente serve per capire come è composto il vostro nucleo familiare e poi tutti i documenti quindi sia carta d'identità che codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare bene questo è tutto semplice no quindi ora appena escono gli incentivi per chi è in attesa insomma siamo pronti per l'ordine mi raccomando cercate di non stressare la vita agli advisor vi assicuro che lavorano per voi ve lo assicuro quindi fateli lavorare sperando che riescano a inserire in tempo gli incentivi per tutti quindi è fondamentale lasciarli lavorare bene questo è tutto per oggi e buona fortuna a tutti alla prossima ciao